Salve a tutti! Continuiamo la realizzazione dello stadio di Baxingrono con la parte relativa all'analisi della sua logica di controllo. Infatti, come avevo accennato nel precedente video, non riuscendo a trovare un controllore che riuscisse a soddisfare le mie richieste, ho dovuto realizzare in modo totalmente analogico la parte relativa al controllo e quindi quello che ho fatto è stato riprodurre il tipo di controllo che viene chiamato Voltage Mode, che è anche la logica più semplice da implementare per questa tipologia di convertitori. Esiste anche un'altra tipologia di logica che viene chiamata Current Mode, che risulta essere più evoluta, quindi più prestante in termini di velocità di risposta, però a livello hardware è più difficile da realizzare. Quindi, essendo che non mi serviva una elevata prestazione del convertitore, in quanto risulta già veloce con questa tipologia, ho preferito quindi utilizzare appunto la logica del Voltage Mode. E quindi, com'è che funziona? Abbiamo qui lo stadio di driver, quindi del chip che andrà a controllare l'accensione dei due MOSFET presenti nello stadio di potenza, che appunto daranno energia al dispositivo che viene connesso in uscita del BAC. Quindi, attraverso un segnale di feedback che vado a prelevare dall'uscita, riesco a ricavarmi il valore della tensione e il valore della corrente. Quindi, per quanto riguarda il valore della tensione entrerà in un blocchetto che ho chiamato Voltage Loop, mentre per quello della corrente entrerà in un blocchetto che ho chiamato Current Loop. E quello che faranno questi due blocchetti sarà andare a confrontare il segnale di sensing con il valore impostato sul set point, quindi quello che leggono sui potenziometri di controllo. E quindi andranno a generare un segnale di feedback che arriva in ingresso a questo blocchetto integratore, che lo andrà a confrontare con una tensione di riferimento nota. Quindi, a seconda se il valore di tensione del segnale di feedback è maggiore o minore di questa tensione di riferimento, il blocchetto integratore andrà ad aumentare o diminuire il valore di tensione che esce dalla integrazione effettuata. Questo valore di tensione sarà poi confrontato con il valore di tensione puntuale di un'onda triangolare che verrà generata su un circuito ausiliario presente sulla scheda e questa comparazione verrà effettuata appunto da un comparatore. E quindi l'uscita del comparatore, a seconda se è maggiore l'una o l'altra, sarà di tipo alto o basso e quindi in pratica l'uscita corrisponderà proprio alla PWM che andrà a pilotare lo stadio di potenza attraverso l'ausilio di questo driver appunto. Ed in questo modo è stata quindi spiegata quella che è la logica di tipo voltage mode. Ora per focalizzare meglio le parti del circuito che compongono questi singoli blocchettini andremo ad esaminare meglio lo schematico che sono andato a realizzare. Ecco qui lo schematico completo del back singrono e focalizzandoci solo sulla parte relativa alla logica abbiamo che qui viene effettuato il sensing della tensione che corrisponde direttamente al segnale di feedback che arriva in ingresso al blocchetto integratore mentre qui viene effettuato il sensing della corrente che verrà diciamo manipolato a livello elettrico prima che venga dato in ingresso al blocchetto integratore. Quindi questo feedback si sommerà a quest'altro in modo da dare in ingresso un solo segnale di tensione. Questo valore verrà quindi confrontato con una tensione di riferimento che viene generata in questa parte di circuito e quindi viene svolta una integrazione sulla differenza di questi due segnali. Qui abbiamo la parte di circuito che si occupa della generazione dell'onda triangolare e quindi qui c'è l'uscita di questo generatore e quindi abbiamo un'onda triangolare variabile nel tempo. Questo segnale e questo segnale vengono poi confrontati in questa parte di circuito che svolge la funzione di comparatore e sarebbe il circuito custom che abbiamo studiato nei video precedenti e quindi da questa comparazione abbiamo che in uscita del comparatore su questo nodo chiamato A1 avremo la generazione del segnale PWM e questa PWM arriverà poi in ingresso al driver per il comando del mezzo ponte. Ora su LTSpice non è stato riportato il driver ma bensì una sua realizzazione concettuale con due behavioral quindi solo per simulare idealmente quello che è il suo poi comportamento. Come possiamo vedere quindi la maggior parte del circuito è dedicata alla realizzazione della logica e vi sono anche parecchi componenti discreti quindi amplificatori operazionali e transistor bigetti. Quindi diciamo che a livello pratico non conviene mai realizzare la logica di controllo custom ma comprarla in un chip già fatto però questa volta è stato necessario necessario realizzarla. Altre caratteristiche del controllo sono che è possibile regolare la frequenza di switching da un minimo di 40 kHz a un massimo di 70 kHz attraverso un potenziometro regolabile situato nel generatore di onda triangolare. Questo perché poi in fase di debug andrò a scegliere quella che sarà la frequenza migliore a cui far lavorare il bug sia in termini di stabilità che in termini di perdite. Inoltre altra caratteristica è che la reazione agli stimoli in uscita sarà molto lenta e questa viene ottenuta attraverso degli opportuni valori del blocchetto integratore. Questa scelta è stata presa in quanto si vuole assolutamente evitare che possano succedere dei fenomeni di instabilità e quindi a causa delle alte potenze in gioco potrebbero provocare la distruzione dello stadio di potenza. Molto bene quindi per quando riguarda la parte relativa alla logica del circuito questo è tutto quello che è stato fatto. Per questo video è tutto, alla prossima!